san liberale san liberale trapassato intorno al 400 presbitero della zona di ancona lavoro con grande amore per la conversione degli ariani che identificavano la lingua con la razza e mitizzavano la razza e la lingua pura gli ariani gli inflissero molte sofferenze liberale e venerato come santo dalla chiesa cattolica le sue spoglie sono custodite a triviso città di cui il santo è patrono che differenza c'è tra san liberale e un evoluto laico commento nessuna perché entrambi hanno costituito la coscienza individuale